Ok, Magico Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Magicolo e benvenuti nel primo gameplay di Shout Park Il primo gioco per PS1 fatto, per, per, proprio per, Shout Park Ok, il gioco più, diciamo più educato che si possa trovare sulla faccia della terra, ecco Un gioco senza parolacce e senza insulti, senza cose brutte e senza morte, soprattutto senza cose strane Vabbè, abbiamo capito Allora, eccoci qua, possiamo partire, siamo nelle vesti di Kenny, l'uomo che non parla e che muore subito Attenzione però, attenzione, attenzione, perché non vorrei morire subito Ok, allora, in questa puntata cercheremo di salvare tutti, tranne il più stronzo che è Eric Cartman Attenzione, oh, 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 attenzione, attenzione Questi tacchini, ecco, praticamente c'è stata questa invasione di tacchini, ragazzi E noi dobbiamo praticamente cercare di salvare tutti Eccolo gli Eric, ciao, ciao Tutto stronzo, mi ammazzi sempre Vabbè dai, ti salvo Ok Avevo salvato Eric Cartman, purtroppo Purtroppo, attenzione, 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 attenzione ragazzi, attenzione Benissimo, in questa puntata dovremmo cercare di arrivare a un punto della mappa che sarebbe il punto G No, attenzione, eccoci qua, siamo arrivati alla City Hall Che in inglese sarebbe, non lo so, no scherzo, quello del sindaco, il comune diciamo Ok, eccoci qua, ah, eccoci qua, abbiamo anche trovato, abbiamo salvato già tutti Ecco Kyle, ok, abbiamo salvato praticamente già tutti, possiamo già partire per la montagna, diciamo Dove ci attaccheranno un sacco di pinguini, eh, voglio dire di tacchini Qui siamo molto vicini alla scuola, devo dire, molto vicini, eccoci alla scuola, benissimo La scuola la possiamo buttare giù, giocare un po' a football americano Sapete come si gioca a football? Io non lo so, quindi non ci gioco Ah, ecco, rinascimento di Shouty Park Ah, la fiera di rinascimento Oh, che cazzo, oh, la cazzo di rinascimento Ma che cazzo sta succedendo? Magic cats, oh, eccolo qua, muore Allora, questa è una fiera di rinascimento Oh, un piccolissimo, come si dice, un piccolissimo E muore, cazzo, sembra un pericoglione Un piccolissimo conignetto, poverino Ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo Madonna, madonna Oh, ok, eccoci qua Oh, muovete, mangiatevelo sto conigno E non roppete i coglioni Allora, allora Devo trovare al più presto questa baita, diciamo Eccoci qui, le frecce ci indicano dove andare Attenzione, attenzione che ci stanno inseguendo Un mare di tacchini, guardate qua ragazzi Che grafica, che grafica veramente appassionante Questa qua che stiamo vedendo Per la PS1, ovviamente Madonna, madonna Ok, possiamo andare Dovrebbe essere qui vicino la baita che vi dicevo Allora, sento già il rumore di sti cavolo di Di tacchini che veramente mi stanno già rompendo le scatole Dov'è sta baita? Ragazzi, mi serve la baita? Eccola qua! Eccoci qua, arrivati alla baita Oh, grazie a cielo ce l'abbiamo fatta Ci riscaldiamo un po' ragazzi Siamo qua al fuocherello E intanto ci prendiamo le palle da dodgeball Perché, perché, perché Nella prossima puntata Colpiremo i I I I tacchini con le palle da dodgeball Possiamo andare? Ok, ci vediamo alla prossima puntata Ciao a tutti